Andrea Monda pubblica per Ares Tolkien e l'imprevedibilità del bene. Andrea Monda, attualmente alla direzione dell'osservatore romano e già autore di diverse pubblicazioni sull'universo tolkieniano, pubblica questo lavoro dove ci dimostra come anche nell'epica tolkieniana esiste un occhio oniscente che scruta, osserva, dirige in maniera diretta e indiretta le complesse destinalità, le interessanti destinalità di personaggi come Frodo Baggins, Bilbo Baggins e lo stesso Gollum. Non è l'occhio oniscente di Sauron ma è l'occhio oniscente della provvidenza che anche nell'epica ha il suo valore fondamentale, pregnante, principale e che talvolta viene invocato dagli stessi personaggi tolkieniani anche sotto voce. Il libro offre innumerevoli spunti di riflessione e ci rivela come lo stesso Tolkien sia stato un personaggio non solo in grado di costruire un'opera immensa come Il Signore degli Anelli ma anche un grave studioso di linguistica che è riuscito a creare dal nulla sintassi complesse come ad esempio quella della lingua degli elfi. Grazie 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 Grazie